Buongiorno, good morning Milano, 708, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, mercoledì 15 maggio, eccoci qui di nuovo in diretta per darvi un'altra volta la sveglia, per fare un'altra volta colazione insieme a voi, per farla un'altra volta sotto l'acqua. Ebbene sì, sta piovendo e come signori, allerta meteo, codice arancio, allerta Lombardia, regione Lombardia Protezione Civile, allerta codice arancione, cioè criticità moderata sull'idrometeo idraulico e l'idrometeo idrogeologico, quindi acqua che viene da su e viene da giù, fiumi che si stanno riempiendo, poi vedremo a che punto sono Seveso e Lambro e non sono un buon punto, anzi, ma tanta tanta acqua che si sta riversando sulle nostre città. Strade già a mezzo allagate, traffico che ne risente, insomma iniziamo bene una giornata, bene, se avete voglia di tornare a letto vi posso capire, avete tutta la mia solidarietà e comprensione, se invece siete qui con noi 3317853555 il nostro numero di Whatsapp, potete scriverci, potete mandarci le foto di quanto acqua c'è sui tombini della vostra via, insomma potete fare un po' quello che volete con il nostro numero, soprattutto farci compagnia, perché noi la facciamo a voi e voi la fate a noi, tutte le mattine qui su Crystal Radio con Good Morning Milano, lo sapete alle 7 alle 9, ci raccontiamo un po' quello che succede a Milano e tanto altro, leggiamo un po' dei spunti dai giornali, questa mattina appunto saremo anche sul sito di protezione civile e Regione Lombardia per capire un po' la situazione, insomma siete qua con noi e iniziamo con la musica. Sunshine Reggae, Sunshine Reggae, Late Black, Late Back, scusate, alle 7 e 13 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, 3317853555 il numero di Whatsapp a cui potete scriverci, come ha fatto ad esempio Alberto, buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini, buongiorno Alberto, Giove Pluvio ha aperto le cataratte del cielo, wow, anche poetico questa mattina, non voglio pensare a questa sera chi sarà in Piazza Duomo al concerto organizzato, mi piace, per cosa scrive, dall'altra radio, si può dire, se possiamo chiedere il nome dell'altra radio, no, non lo diciamo, va bene, no, vabbè, stasera sì, stasera c'è il concertone lì in Piazza Duomo dove non dovrebbero esserci concerti, sapete come la penso su questa cosa, l'ho detto mille volte, che credo che non debbano esserci concerti, manifestazioni così grosse in Piazza del Duomo, perché Piazza del Duomo è di tutti e non solo di chi paga per fare l'organizzazione di eventi, quindi non so, no, allora, dico la verità, all'inizio quando ho letto il messaggetto, egli sta bene, ho fatto così, in realtà no, in realtà mi spiace, anche perché immagino l'organizzazione, il lavoro che c'è dietro, tanta gente che sta sperando che appunto l'ora di questa sera spiova un po', e tanti che appunto dovranno lavorare, che portano anche a casa la pagnotta con questo lavoro e quindi insomma non è giusto sperare che gli vada male, dopodiché, dico ancora una volta che comunque sono completamente contrario a qualsiasi evento del genere fatto in Piazza del Duomo, cioè posso accettare il 2 giugno, il 25 aprile, Natale, giusto perché vabbè, perché sono tutti più buoni a Natale, e cos'altro, boh, il giorno delle forze armate, la festa dei vigili urbani, cioè quella roba lì, quelle manifestazioni in Piazza del Duomo va bene, ma i concerti privati, gli eventi, che non sono privati, ho capito cosa vuol dire, cioè che un privato prenda in affitto la piazza, per farci il concerto, l'evento del film, l'evento della serie che esce sulla piattaforma digitale, no, quella roba lì, sapete, non la concepisco e trovo anzi che sia proprio sbagliato che un luogo di tutti diventi luogo di commercio di qualcuno, non è un negozio di Piazza del Duomo, ok? Adesso qui divento, non vorrei paragonarmi a profeti o cose del genere, ma insomma, se anche Gesù si arrabbiò quando entrò nel Tempio e ribaltò tutto, un motivo ci sarà, no? E ovviamente non abbiamo imparato assolutamente niente da nessuna scrittura, che sia sacra o non, tra parentesi, cioè qualsiasi roba ci abbia insegnato che questo non va fatto, noi giustamente facciamo il contrario. Qui invece la situazione è abbastanza problematica, perché appunto vi dicevo che Allerta Lombardia, Allerta LOM di Regione Lombardia e Protezione Civile, ha diramato un'allerta meteo di rischio, codice arancione di criticità moderata, che è il step prima dell'elevata, nel senso che sono verde, giallo, arancione e russo, quindi insomma, l'arancione non è male, oltretutto con i livelli del Seveso che sono in grande, grande rialzo. In questo istante, ad esempio, se andiamo a vedere la stazione di Niguarda, la solita stazione, che poi è quella di Bresso, la chiamo Niguarda, ma in realtà è Bresso, sta salendo niente male. Alle 5.40 questa mattina il livello idrometrico era 137.7, quindi già comunque in allerta molto molto alta. Adesso sta scendendo repentinamente, molto velocemente, sentiremo e capiremo se per caso è scattata l'apertura della vasca. Questa cosa qui, adesso cercheremo di capirla e cercheremo di vedere un po'. Anche lì che non ci sia un sito che ti dà in tempo reale, se sì o no, la vasca aperta, anche lì la trovo veramente assurdo. Io devo mandare un messaggio alle ragazze che conosciamo del comitato Novasca, chiedergli la vasca aperta, poi guarda fuori dalla finestra, insomma, non mi sembra proprio il modo migliore di dare una notizia, però è l'unica che abbiamo al momento. Le precipitazioni sono veramente in aumento e in grande ascesa, il livello anche del pluvio, quindi parliamo di pioggia, in via Rossellini è in questo momento altissimo, 157 mm. Mauro Ermanno Giovanardi, La Cruz, io confesso, dal Sanremo 2011, l'altra possibilità l'hai avuta e come, e te la diamo sempre, caro il mio Mauro Ermanno Giovanardi, che amo, amo, amo la follia di questa canzone. Quindi sono ben contento e grazie all'Ufficio Programmazione per avermela messa questa mattina in programma, veramente uno dei pezzi più belli degli ultimi Sanremi, degli ultimi vent'anni. Ma esagero questa mattina, sì 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 sì, ma me lo ricordo come fosse ieri, sale sul palco, famoso appunto per La Cruz, che si presenta quell'anno come Mauro Ermanno Giovanardi e La Cruz, quindi insomma, veramente interessantissimo. C'è una bellissima versione di questa canzone anche su YouTube, potete andare a cercare insieme a Carmen Consoli, se mi interessa, c'è una bella versione. Comunque, torniamo invece a parlare di acqua, perché appunto i livelli si stanno alzando molto molto e molto. Come vi dicevo appunto, stazioni di Niguarda, in questo momento il livello idrometrico del Seveso è di 137.4. Abbiamo anche invece livelli molto più alti in città per quanto riguarda le piogge, le precipitazioni. Se andiamo a vedere le ultime 12 ore, io adesso vi vado a vedere appunto il dato sulle ultime 12 ore, in questo momento in via Rossellini, che appunto è zona stazione centrale, per esempio sotto al palazzo della regione Lombardia, 157 mm scesi nelle ultime 12 ore, con una portata, che lo si dica, non so velocità, spassatevi a me, non ho idea di come si dica in questo caso, di 12 mm all'ora. Non è male, nel senso che sono acqua e tanta che sta scendendo. Livelli veramente altissimi che stanno preoccupando un po' la città e che insomma appunto vedremo nel corso della giornata come andrà. Il Seveso, come vi dicevo, molto alto anche a Palazzolo, paderno Dugnano-Palazzolo, che in questo momento è a 205 cm alle 6 di questa mattina, quindi un'ora e mezza fa l'ultimo dato rilevante dava 205 cm di livello idrometrico, cioè sopra il livello classico in cui si ritrova il fiume normalmente, per intenderci. Questo è quello che succede. Temperature attualmente di 14 gradi, vi sto dando un po' le notizie che arrivano in tempo reale, perché davvero sono tante, sono preoccupanti più che altro, questo è il problema, sono preoccupanti. Comunque andremo a vedere, l'allerta continua ancora nelle prossime ore, quindi qui c'è un altro dato, vediamo se riusciamo a vedere quello dell'Ambro, eccolo qua, l'Ambro invece in questo momento, quanti dati, l'ora eliminano l'Ambro, la pioggia è 157 mm, quindi in linea con il resto della città, e l'Ambro sembra al momento comunque tenere, cioè nel senso un pochino più al momento, però insomma bisogna vedere, perché a questo momento, eccolo qua, stazione l'Ambro, insomma, bello alto, siamo al 90% di portata, quindi insomma, molto molto alto. Voi come state andando con la pioggia questa mattina, 3317853555, 3317853555, il nostro numero di Whatsapp, potete raccontarci un po' come sta andando la mattinata, insomma. Il traffico sicuramente sarà uno dei problemi della mattinata e forse della giornata, quindi per capire meglio, per sapere come fare a muoverci, e nonostante dobbiamo per forza muoverci in città anche in queste giornate, sentiamo allora i consigli e le indicazioni in tempo reale di Luce Verde, che ci dà la fotografia in questo istante, appunto in tempo reale, della situazione del traffico sulla città di Milano e sulla provincia e non solo, appunto, sulle maggiori strade di percorrenza. Alvaro Soler, il mismo sol, oggi il mismo sol gaminga, questo è questo, è il mismo sol, il niente sol questa mattina, eh sì, pioggia su Milano, tanti messaggi che appunto raccontano che sta provendo un po' tutta la città, situazione però, diciamo, potenzialmente critica, ma al momento ancora tutto per fortuna, soprattutto nella zona ovest, dove siamo noi, per adesso qui situazione abbastanza sotto controllo, nella zona nord invece un po' più complicata, vediamo anche un Whatsapp, perché capiamo che non piove solo qui a Milano, perché ci scrive anche, buongiorno da quella di Bergamo, qui piove non poco, non oso immaginare le condizioni dei mezzi pubblici oggi, eh sì, e infatti vado sul sito TM, invece da Bergamo ritorno a Milano, sito TM, quattro linee, cinque che hanno problemi, vi leggo, tram 9 verso Porta Lodovica, devi ad essere istituito dai bus da stazione centrale a Viale Vittorio Veneto, via Lazzaretto, in alternativa usate la M3, sul posto c'è il pronto intervento che sta intervenendo sulla rete dei tram, appunto della linea 9, per sistemare alcuni scambi allagati, ecco questa è la situation al momento, tram 4 verso il parco nord devia e salta la fermata da via Farine a Maciacchini, c'è un intervento tecnico su una vettura, il 19 e il 33 sono sostituiti da bus tra Piazza Ascoli e Rimembanze di Lambrate, per una rete aerea danneggiata da un ramo in via Bassini e invece infine il traffico anche legato al maltempo sta rallentando la circolazione delle linee 2 e 9, quindi la 9 c'è un pezzo che non va e in più viene anche rallentato dal traffico, situazione appunto quella di via Bassini, anche lì per il metro un ramo è caduto appunto sulla linea aerea. Mi è arrivato appunto il messaggio, grazie, ringrazio il comitato Novasca Seveso che mi sta dicendo in tempo reale, appunto la vasca in questo momento è in funzione, ieri sera la vasca è stata svuotata in previsione delle forti perturbazioni di oggi, la vasca poi è entrata in funzione questa mattina alle 6 e mezza e aggiungo già appunto il comitato che mi scrive in questo momento, il livello dell'acqua al suo interno sta crescendo molto velocemente, quindi questa è la situazione appunto, come sempre la zona nord di Milano risente molto di più di altre zone della caduta e della precipitazione, lo sappiamo perché è semplicissimo, è facilissimo capire perché a nord è tutto cementificato, punto, questa è la verità, la parte nord e la parte nord-est della città sono molto più cementificate rispetto alla parte sud, dove sappiamo che adesso ci sono grandi attività agricole e tutto, e la parte ovest con il parco sul Ticino e grazie anche ai navigli che comunque aiutano a far spostare una buona quantità di acqua, in zona ovest, ad esempio qua c'è il parco delle cave, il bosco in città, il parco di treno, c'è tre parchi così grossi, vicini, sapete quanta acqua assorbono? Tantissima che per fortuna non finisce poi nelle nostre fogne, non finisce nei nostri scantinati, non finisce nelle nostre strade, cosa che invece non avviene a nord, dove praticamente da lecco in giù è una roba, un cemento unico, una collata di cemento unico e quindi tutta l'acqua poi si riversa nel Seveso, nel Lambo dall'altra parte, Seveso appunto che vede la vasca in questo momento, secondo le notizie che ci arrivano dal comitato Bresso Novasca, che dice appunto la vasca è stata aperta alle sei e mezza di questa mattina e il livello dell'acqua nella vasca si sta alzando in maniera molto molto alta e velocemente soprattutto, è la velocità da quanto ho capito che fa sempre molta molta impressione. Grazie mille al comitato, teniamo sott'occhio la situazione, mi raccomando se siete a girare in quelle zone, state all'occhio, state attenti, va bene? Situazione oggi in Milano non semplice, quindi un po' di attenzione. Figlia di Loredana Verde, qui su Cristal Radio, Good Morning Milano, continuiamo un po' a raccontare invece quello che succede nella città, leggiamo un po' di giornali, ovviamente con un occhio rivolto verso il cielo e un altro rivolto verso il Seveso. Milano, leggiamo da Repubblica Milano, il concertone è già sold out, dai mezzi pubblici alla diretta tv, come sarà la festa dei pop star in Piazza Duomo. Alle 20.40 di mercoledì 15 maggio, quindi di questa sera, si accende la festa della musica, ma i 20.000 posti disponibili sono andati subito esauriti, accesso invece senza prenotazione per i disabili. Sul palco 12 artisti da Gali a Mahmood, Ultimo, The Colors, Annalisa e anche Gianna Nannini. Insomma ormai è tradizione quello del concerto in Piazza Duomo che appunto è pronto a vedere la luce questa sera nell'ambito appunto di questo grande evento che tutti gli anni viene fatto, insomma ricordiamo che tutti gli anni c'è questo evento e io già ho detto in tante tante circostanze che non mi fa impazzire, però vabbè non vado a continuare così, invece parliamo di quello che succederà che saranno appunto 12 gli artisti che ci saranno, 20.000 persone attese che si sono prenotate gratuitamente sul loro sito internet dell'evento e poi insomma diciamo che è tutto pronto, vediamo come andrà con il clima, il tempo e gli acquazzoni. Annalisa, Emma, Gazelle, Giollier, Gali, Mahmood, Angelina Mango, Gianna Nannini, Noemi, The Colors e Ultimo. Questi gli artisti che saliranno questa sera sul palco, poi sicuramente tanto ci sarà anche la diretta tv o comunque in qualche maniera lo ritrovate tutto. Cosa succede? Oltre però appunto all'incognita meteo che quindi farà, insomma, non sarà semplice organizzare e fare il concerto, oltretutto ricordiamo cosa che dalle ore 13 la fermata della metro di Duomo sarà chiusa e per raggiungere Piazza Duomo si dovrà scendere alle stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Monte Napoleone o Missori. Le linee del metro M1 e M3 chiuderanno poi più tardi e alcune linee di tram devieranno invece il loro percorso, cioè chiuderanno più tardi lungo e i tram invece saranno deviati. Un'altra cosa posso dire, cioè mercoledì 15, un giorno qualsiasi della settimana, di un mese qualsiasi, la gente va a lavorare, in Piazza Duomo ci sono tantissimi uffici, niente, io non posso andare a lavorare, non gli devo metterci due ore in più per tornare a casa o andare a lavoro, perché? Perché qualcuno ha deciso di fare un concerto lì. Vedete che alla fine, oh, mi spiace, sempre lì finisco, sempre lì finisco, sarò che ce l'ho su questa roba dei concerti in Piazza Duomo, ma io posso, cioè già devo andare fino in Piazza Duomo a lavorare, magari abito a Grattosoglio, ci metto una vita che devo prendere il trame e tutto. Arrivo lì, non posso neanche scendere alla metropolitana giusta perché me l'hanno chiusa, perché? Perché c'è la gente che si diverte, perché qua, cioè, a me è questo che, cioè, mentre io, come uno, sono lì a lavorare, ci sono quelli che cantano e ballano, balla lì, balla lì, balla lì, no, no, cioè, non lo so, io sono, va bene, sarò vecchio, non so cosa dirmi, cioè, voi cosa ne pensate, cioè, davvero, voi cosa ne pensate, cioè, in Piazza Duomo concerti come fosse l'Arena di Woodstock, 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5, vi prego, ditemi che sbaglio, ditemi che sono io un vecchio con la mentalità retrograda e chiusa e che invece voi altri trovate grande stimolo in questa in queste iniziative. Io trovo, ripeto, assurdo sequestrare la Piazza Duomo a tutta la città e rompere le scatole a chi deve andare a lavorare, ma ripeto, ma rompere le scatole ai turisti. Uno magari si è prenotato un viaggio a Milano un anno fa, felice di venire, c'è, vado lì, mi faccio una foto davanti al Duomo, chiama e la ricontro la vita, arriva e non c'è perché c'è il concerto e c'è Angelina Mango, va dai. Lo Stato Sociale, una vita in vacanza, anche se non mi ero mai corta questo finale un po', è sul ponte e vento la bandiera bianca, un po', ricorda quella roba lì. Comunque, va bene, grazie, grazie a chi mi sta scrivendo in questo momento al 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5, il fronte via fuori da Piazza del Duomo si allarga, grazie mille, fonderemo un partito a questo punto, giù le mani da Piazza del Duomo, no concert in Piazza del Duomo, Piazza del Duomo di tutti, la chiamiamo così, Piazza del Duomo bene comune, la chiamiamo così, ok? Buongiorno Cristallini, buongiorno a te Marilena, io ho 30 anni e sono più d'accordo con te, più che d'accordo con te, però vedete, quindi non è un discorso di essere vecchi, e oltretutto vorrei ascoltarmi di tutti gli artisti che sono sul palco, ma ad esempio lavoro in Duomo e ogni anno la stessa storia, perché il mio ufficio è una piccola traversa di Piazza Duomo, quindi noi siamo bloccati da tutte le parti, andare verso Curduso per me è sempre impossibile, un litigio ogni anno con i poliziotti che non mi fanno neanche attraversare, ecco capite, questa è la situazione, che ripeto, non ci fossero altri posti, non capite? Adesso io so che siamo un pazzo in questo momento, però non ci fossero altri posti, vabbè ragazzi, cioè non è che a Minano possiamo fare i concerti, anzi facciamoli, ma ci sono, ci sono milioni di posti, miliardi di posti, c'è l'area Expo, è lì che aspetta solo questo, cioè vogliamo dirlo, zona East Market, cioè ce ne sono una marea di posti dove si possono fare i concerti, si possono anche inventare delle nuove arene, ad esempio, ok? Non so, cioè ci sono i palazzetti, ma volete farlo l'aperto? Ripeto, c'è l'area Expo, è così bella, mind, è così stupebile lì, ma fatelo lì, ma che problema c'è? Allora, lo so che ogni volta che fai un concerto in qualche parte le scatola qualcuno le rompi, non lo dite a noi, noi abbiamo lo studio attaccato a San Siro, ma non per questo diciamo noi concerti a San Siro, cioè ben vingono i concerti a San Siro, ma anzi, che bello vedere i concerti e sentirli a San Siro, nonostante l'acustica faccia schifo, ma nel senso, va bene, il tema è, insomma, questa roba qui, tra parentesi, il meteo comunque non, cioè sembrerebbe che potrebbe salvare, salvare il concerto di questa sera, perché potrebbe nel pomeriggio un attimo rallentare, anche se, e leggiamo da Repubblica Milano, allerta arancione a Milano per temporali e piaggi intense, il meteo resta instabile con rischio grandine, e vai, e gli esperti, sapete che ormai abbiamo gli esperti che dicono queste cose, cioè i meteorologi, dicono la situazione non migliorerà fino a fine mese, fermi tutti, io mi ricordo un titolo uguale che l'ho letto ad aprile, verso il 20 d'aprile, che diceva la situazione non migliorerà fino a fine mese, ma non è migliorata mai, tra parentesi, però vedete che noi ci lamentiamo sempre, perché poi siamo un po' così, come si dice, analfabeti funzionali tutti quanti, perché tutti lo riportiamo al nostro vissuto, al nostro percepito, ecco, piove, non se ne può più, non se ne può più. L'articolo finisce però dicendo così, del resto, maggio, insieme a novembre, è generalmente uno dei mesi più piovosi dell'anno a Milano, quindi non è una cosa strana che piova a maggio. La media mensile in città è di 102 mm di pioggia, nel 2023 ne erano scesi ben 117, e quest'anno, fino ad oggi, sono già caduti 75 mm. Gli esperti, cioè Samantha Pilati, appunto, metrologa, dice quindi è ormai praticamente sicuro che il maggio 2024 sarà più piovoso della media stagionale, però non è detto che sia, cioè, il più piovoso di sempre, nel senso, è quello, noi riportiamo sempre tutto al nostro vissuto, no? Il fatto che questa mattina esco, trovo bagnato, trovo allagato, e quindi, ecco, non ci sono più le mezza stagioni, la stagione delle piogge, i monsoni, le cavallette, la grandine, tutto così, no? Però provate a vedere i dati, l'anno scorso era uguale a quest'anno. Praticamente stessa solfa. E chi di voi si ricorda in questo istante che lo scorso anno, il 15 di maggio, eravamo qua a lamentarci che pioveva tanto? Boh, io no, non so neanche voi. Quindi, insomma, è sempre abbastanza interessante questo tema, eh? Bisogna sempre capire che è sempre tutto un po' così, da capire. Gianluca Grignani, destinazione Paradiso, c'è un treno che va a Paradiso Città, oggi i treni, meglio se non prenderli, ma anche i tram, situazione davvero, io vi giuro che volevo parlare di altro in questa seconda ora, ci ho pronti qua degli articoli per parlare di altro, ma continuano ad arrivare notizie sull'allerta meteo e su quello che sta succedendo in città e quindi sono costretto a parlare. Rallentamenti molto forti delle linee S con alcuni treni sospesi nel passante ferroviario, quindi date un occhio al sito di Trenord se voi riuscite a capirci qualcosa, perché io ci ho guardato un attimo e non ci ho capito assolutamente niente, ma sono tutti in ritardo praticamente, tutti i treni delle linee S in questo momento hanno ritardi. Ma soprattutto ATM, ATM è la lista delle linee coinvolte dal maltempo, dalla pioggia, è aumentata e allora rifaccio un recap veloce. Pronto intervento sulle linee del tram per sistemare alcuni scambi allagati per quello che riguarda il tram 9 e il tram 3, tanto che il 9 da Porta Ludovica devia ed è sostituito dagli autobus da stazione centrale a Viale Vittorio Veneto. Il tram 9 fa capolinea in questo momento in via Tortona via Spadari anziché in via Cantù per problemi di allagamento degli scambi. Tram 1 e 12 fanno servizio con bus tra Viale Spinasse, Via Palizzi e Roserio per un intervento tecnico di alcune vetture. Stessa sorte per il tram 4 che va verso Parco Nord e salta alle fermate di Via Farini e Maciacchini per un intervento ad una vettura. Tram 1933 sostituiti dagli autobus tra Piazza Ascoli e Rimembranzi Lambrata FS perché la rete aerea è stata danneggiata da un ramo in via Bassini. Poi via Vittorini che ho tutto confesso dove l'area dove è, zona verso Ponte Lambro di là oltre la tangenziale, allagata, via Vittorini allagata, quindi modifiche alle linee bus 45 che devia e salta le fermate tra Via Lungheria e San Donato. La 66 che devia salta le fermate tra Via Milano che credo sia San Donato e Via Lungheria. Il bus, perché Via Milano a Milano non può esistere, so questa regola qua, so che non può esistere una via con il nome della città, quindi non può essere a Milano via Milano. E bus anche 88 sbarrato, almeno che non hanno schiacciato un tasto in più per sbaglio mentre scrive la notizia, solo le corse da e per l'inate paese deviano e saltano le fermate tra Via Lungheria e l'inate paese appunto, quindi insomma anche qui incomincia ad aggravarsi la situazione nella zona sud-est che è la prima delle zone sud che viene di solito coinvolta, lì da quelle parti passa il Lambo, per intenderci giusto. Tram 31, sostituiti dagli autos sull'intera linea da Bicocca a Cinisello per un intervento appunto su una vettura. E poi anche legate al maltempo, rallentamenti su linea 2, 3 e 9. Poi non ho capito perché invece il parcheggio di Romolo, se c'è anche questa notizia, ATM comunica che il parcheggio di Romolo è aperto solo per chi ha l'abbonamento. Non so cosa è successo agli altri che non ce l'hanno, andate a passaggiare da un'altra parte, se sarà rotto qualcosa, oppure è strapieno, non lo so, però non dice che è aperto, non dice che è pieno. Non lo so, non vi so commentare questa notizia, mi spiace, arriviamo fino a un certo punto, poi oltre non possiamo andare. Comunque questa è la situazione Milano, io volevo parlare di tutt'altro in questa ultima ora insieme di trasmissione, vediamo se dopo quando torniamo dalla pubblicità, scusate dalla canzone, dalla canzone, vediamo se quando torniamo dalla prossima canzone riusciamo finalmente a parlare di altro, oppure dobbiamo ancora per l'ennesima volta parlare del maltempo, abbiamo tanto altro da raccontare, Rovazzi, un vincolo su un garage di Porta Romana che invece il Tar ha bocciato, ce n'è, ce n'è, le regole della Movida che sono già cambiate dal 20 maggio entrano in vigore ma sono già cambiate, pensate, in un attimo, non dovevano entrare l'altro ieri e invece sono già cambiate in un attimo. Comunque queste le notizie che vorrei darvi nelle prossime minuti, speriamo di non dover dare altri aggiornamenti su linee che cambiano, autobus, treni e chi più ne ha più ne metta. Andiamo avanti con la musica, The Police, Don't Stand So Close To Me, Stasù De Doss. Don't Stand So Close To Me, Stasù De Doss, The Police, alle 8 e 16 minuti, Crystal Radio 3317853555. Mai come questa mattina vi ho visti attivi su WhatsApp, foto di fiumi che stanno al limite, gente che mi racconta che il Naviglio è lì per uscire, poi il Naviglio devo dire fa paura, devo dire. Io adesso, la volta buona che lo dico porto una spiga da mamma, però non esce il Naviglio, ha un sistema di controllo per cui non dovrebbe mai esondare il Naviglio, anzi viene spesso usato proprio per far fluire le acque più velocemente fuori dentro la città, perché dovete fare conto che voi appunto il Naviglio grande porta l'acqua in città a rivendarsela, che è bella grossa, quindi si può riempire un po' un po', ma soprattutto il Naviglio pavese se lo porta via e quindi poi sono problemi di quelli di pavia, però nel senso fa questo giro qui il Naviglio, ok? però fa impressione, perché vederlo lì lì al limite, cioè fa veramente impressione poi dopo, ripeto, il Consorzio Villoresi è maestro nel riuscire a lavorare con le chiuse le paratie, ci sono anche diciamo dei piccoli Navigli di servizio che servono per far uscire l'acqua e andare in altri scolmatori o comunque in altri canali che girano intorno alla città insomma, però immagino che faccia un po' impressione. Quindi grazie anche a chi ci iscrive in questo momento appunto al nostro Whatsapp come Alberto, che ci ricorda anche una scena molto eloquente in questo caso, di quando un ragazzo in campagna chiedeva insomma al signore che potesse piovere un po' perché i campi avevano bisogno di acqua e finì così. Grazie, va bene così, così va bene, un po' meno, un po' meno, basta adesso, basta, basta acqua, basta, 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 basta. Renato Pozzetto appunto il ragazzo di campagna quando insomma chiede appunto di avere un po' d'acqua invece poi ne arriva un po' troppa e sempre così, lo sappiamo insomma che non è sempre molto molto facile gestire questa cosa e arriva, oh grazie mille Anello che arriva in nostro supporto anche lui al 331-78-53-555, arriva Anello con la massima del giorno che dice con questa umidità non si asciuga nulla, oh beh effettivamente, però ricordiamoci sempre allora caro Anello ricordiamoci sempre che effettivamente con questa umidità non si asciuga nulla ma se stendi bene non serve stirare, quindi insomma queste sono le verità che ci portiamo avanti tutte le mattine qui e insomma oggi abbiamo avuto una puntata leggermente movimentata intorno a quello che sono appunto il meteo, è uscito anche un video di questa mattina dell'assessore alla sicurezza Marco Granelli che racconta in 47 secondi come sta andando la situazione temporale del fiume Seveso e Lambro e allora io ve lo farei ascoltare dopo la prossima canzone, quindi andiamo con la canzone e poi ci ascoltiamo Marco Granelli che ci dice com'è, l'assessore appunto della sicurezza, come sta andando la situazione in questo momento con il temporale Milano e l'allerta per i fiumi Lambro e Seveso Lucio Battisti, la canzone del sole, oggi ci provo io, metto tutte queste canzoni l'induismo solo, la canzone del sole, insomma proviamo a far uscire il sole, il sole che in prima non sta uscendo, anzi sta piovendo e ce lo dice anche Marco Granelli, l'assessore della sicurezza di Milano che ha fatto uscire appunto questa mattina un video in cui racconta un po' la situazione e quindi andiamo a ascoltarcelo insieme. È mercoledì 15, sono le 6.30 del mattino, i livelli del Seveso sono aumentati con le piogge di stanotte e quindi alle 6.30 è stata attivata la vasca che protegge i quartieri di Niguarda, Prato Centenario e Isola, ancora una volta quest'opera fondamentale è entrata in funzione e protegge la nostra città, molto alti anche i livelli dell'Ambro, sono sopra i 2.50, ieri sera abbiamo evacuato le comunità in modo da non avere problemi, ora seguiamo tutta la città, i sottopassi sono aperti, ma consigliamo sempre la massima prudenza, il maltempo continua per tutta la mattinata. E questo è appunto quello che ci dice Marco Granelli, un po' troppo enfasi, posso dirlo l'assessore, un po' troppo enfasi su questa cosa che la vasca salva la città ancora una volta, una volta finora è andata a funzione, quindi insomma non è che è una roba, e poi insomma vediamo, io non canterei vittoria troppo in fretta e soprattutto poi ripeto, va bene la vasca sta funzionando, ma a che prezzo per quelli che abitano lì, che vi ripeto non è un discorso in imbi, non è un discorso in not in my backyard, non nel mio giardino, non è quello, il discorso è che forse si poteva pensare di fare qualcosa che non andasse a impattare così tanto su degli altri cittadini, tra parentesi anche lì la beffa, o forse volutamente così, che non sono neanche di Milano perché abitano a Bresso, quindi insomma vai, comunque per fortuna sta funzionando tutto al momento, almeno questo, con tutto quello che è stato, almeno sta funzionando, dai! Eros Ramazzotti, una storia importante, sempre qui in diretta su Crystal Radio, sempre qua con Good Morning Milano, grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando, grazie anche ai vostri Whatsapp che arrivano anche con grandi verità che hanno a che fare con i luoghi comuni, che si dicono in questi casi, come ad esempio Erika che ci scrive, non esistono più le mezze stagioni, beh questo è un grande must, anche se abbiamo scoperto appunto da un articolo oggi su Repubblica che in realtà non è così strano che a maggio piova così tanto, quindi in punto non è così male, cioè non è così strano. Comunque, da Corriere della Sera invece leggiamo qualcosa che ha a che fare con la Movida. Movida a Milano, mezz'ora in più per i Deors, cancellato lo stop ai cibi da sporto, dal 20 maggio al via l'ordinanza del Comune contro gli eccessi della vita notturna in 12 zone. Come anticipato l'assessore della sicurezza Marco Granelli, oggi è una puntata che parliamo solo di Granelli, mezz'ora in più per i Deors e nessun divieto per i cibi. Il Comune ha approvato l'ordinanza sindacale sulla Movida in vigore dal 20 maggio al 4 novembre e appunto rispetto all'avvio del procedimento di metà aprile è stato eliminato il divieto di somministrazione di alimenti, quindi si può fare a qualsiasi, se non solo il gelato, kebab, tutto quello che volete, e è stata concessa anche mezz'ora in più di apertura dei Deors a i locali che operano le 12 zone individuate dal Palazzo Marino, che sono rimaste però invariate, che sono quindi Nolo, da Nolo Lazzaretto, Arco della Pace, Via Melzo, Isola, Piazza Cesariano, Corso Come, Piazza Garolenti, zona di Corso Garibaldi, esclusa l'area di Corso Garibaldi tra via Moscovia e Marsala. Non so perché, illargo la Foppa dove resta in vigore l'ordinanza sindacale del giugno 2021. Va bene, quindi ci sono tutte... uno capite che sarà un locale, non sa neanche a che ora può chiudere perché dipende se la mia ordinanza... cioè è come gli insiemi, non la mia ordinanza di cui, ma che però quella del 21 non cancella quasi... è tutto così, va bene. Poi c'è anche Brera e Ticinese fino alla Darsena e ai Navigli. L'ordinanza è valida per tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto e distribuzione automatici e prevede il divieto della vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche da mezzanotte alle 6. Supermercati, market, esercizi commerciali che operano dopo la mezzanotte devono riporre le bevande alcoliche in armadi, magazzini, cantine e nel caso di medie e grandi strutture di vendita devono sbarrare le corsie e le scaffalature in cui sono esposte. Cioè dovete mettergli dei cancelli automatici davanti ai frigoriferi, tutto così, bellissimo, bellissimo, è tutto bellissimo quando si è così. Per i Deors, da lunedì al venerdì dovranno chiudere da luna e non da mezzanotte e mezza come era, alle 6 del mattino, ok? Sabato e domenica invece la chiusura è alle 2 e non più quindi all'una e mezza. Va bene, cosa ha cambiato? Non lo so, nel senso che adesso so che c'è confusione e tutto ma credo che la maggior parte della gente il sabato intorno alle 2, 2 e mezza comunque prende e si sposta adesso, va bene, va bene che la notte, anche la notte è lunga come si dice, ma non credo che si mettino tutti i piazzari nei Deors alle 3 del mattino, ok? Comunque vale, sta di fatto che come al solito è stato fatto tutto sto gran rebelot per poi dopo fare un'ordinanza molto blanda che non va a risolvere il problema perché sicuramente non lo si risolve come un'ordinanza che dice di mettere del nastro adesivo davanti ai frigoriferi delle birre o dei superalcolici come al solito, quindi insomma siamo ben lontani dal voler veramente, veramente prendere in mano questa situazione e volerla risolvere risolvendola con i cittadini delle zone, facendo vivere i cittadini delle zone le proprie vie anche la notte, anche di sera e facendo una cultura del divertimento, una cultura della movida che non è una parola negativa, ricordiamo sempre movida perché è spagnola come parola perché nasce in Spagna dopo la dittatura di Franco, quando la gente stanca dell'oppressione della dittatura finalmente poteva uscire nelle strade e festeggiare fino a tarda sera, da lì nasce movida e quindi una parola bella positiva che invece noi dobbiamo sempre legare al fatto che non siamo capaci di vivere questa città tutti insieme e in armonia, va bene, pace e bene andiamo avanti così Bario Mahmood, 8 e 41 minuti, Crystal Radio in diretta qui con Good Morning Milano 96.2 FM Dub Plus in tutta la Lombardia e poi avete anche le app o il sito, insomma potete sempre trovarci e vi ricordo che potete sempre riascoltare tutto quello che succede nella nostra trasmissione anche su Spotify se cercate Good Morning Milano o sul sito goodmorning.milano.it Torniamo sul caso Rovazzi perché il Corriere della Sera ne fa un bell'articolo dove spiega tutto bene e quindi voglio ripercorrere punto per punto con voi. Il titolo Fabio Rovazzi e il finto furto di cellulare, l'ira del sindaco Sala, le scuse del cantante, i commenti social polarizzati e l'esperto che dice non ha valutato le conseguenze. Complimenti Rovazzi. Il sindaco dice degrado nel comportamento e nel senso civico, il professor Gandini dice Instagram premia contenuti controversi. Ebbene sì. Allora, cosa è successo? Iniziamo così. La prima scena. Corso Garibaldi, Rovazzi con ciuffo pettinato in diretta Instagram. Passa un tizio vestito Savasandir da Maranza, che poi appunto sarà il titolo della sua canzone, e gli scippa il cellulare. Il giorno dopo, video invece con sempre Rovazzi, ciuffo spettinato, questa volta, vuole dire, il giornalista del Corriere sottolinea questa cosa, Gianni Santucci, e dice, niente, era tutto finito, era tutto finto. Gli scappa anche un sorrisetto sotto i baffi a Rovazzi e quindi poi di svelamento della promozione della sua canzone. La prima reazione è stata quella, abbiamo detto anche di Maran, che ha detto appunto, ma che bella trovata Rovazzi, anche noi milanesi potremmo avere un'idea divertente di marketing nel farti causa per danni di immagine e simulazioni di reato. Il sindaco sulla denuncia glissa, non dà oltre, non dice niente, però dice, c'è un degrado nel comportamento e nel senso civico che ovviamente è un rischio per la nostra comunità. Qual è l'esempio che diamo ai nostri figli? Fai il furbo, metti in evidenza e sarai premiato con fama e soldi, metti in evidenza, è un esempio tristissimo. In realtà le scuse di Rovazzi sono un ironico contrattacco, se scuse possiamo dirle, perché dice così, all'inizio il primo video dice probabilmente la cosa mi è un po' sfuggita di mano, ma credetemi Milano mi sta a cuore quanto sta a cuore a voi. Poi fa un giochino di parole sul fatto Maran e Maranza, nel senso così gioca anche su quello, ma alla fine dice anche mi è dispiaciuto che il sindaco mi ne è attaccato, ne sono dispiaciuto e anche un po' sorpreso, visto che pochi mesi fa si è presentato a fare la comparsa nel video di lancio del nuovo disco dei Club Doggo, in cui Milano veniva rappresentata come Gotham City. Ebbe effettivamente qui Schiapporova, ci hanno bisogno di intervarsi, infatti caro sindaco, noi l'abbiamo detto che forse non era proprio l'uscita migliore da fare. Sui social ovviamente chiunque ha detto dal genio al farabutto gli hanno dato di tutto e di più, Alessandro Gandini, docente di Digital Culture all'Università Statale di Milano, dice, in questo caso generiamo una polarizzazione nei commenti, credo che la situazione però gli sia sfuggita un po' di mano, come ha detto lo stesso Rovazzi. Adesso, caro professor Gandini, sfugge di mano a mia cugina, a mia zia, a mia suocera gli sfugge di mano che mette le foto dei figli sbagliando e invece di metterle privatamente su Whatsapp le pubblica sui social oppure commenta pensando di scrivere direttamente una persona. Non lo fa Fabio Rovazzi con più di un milione e trecentomila follower e che vive e nasce su quella roba lì. È fatto volutamente. Tant'è che infatti le scuse non sono mai arrivate più di tanto, nel senso che sì, la cosa mi è un po' sfuggita di mano, non è un chiedere scusa, non è un scusa, perché infatti non ha mai chiesto scusa alla fine per quello che è successo. Anzi, le sue scuse sono un contrattacco, sacro santo, è perché la storia di Sala che fa la comparsa nel video dei Club Dogo dove fa Gotham City l'ho trovata veramente infelice. Come infelice però trovo l'uscita sempre di Rovazzi che dice, sempre alla fine di queste strane scuse che insomma non sono proprio delle vere e proprie scuse, dice Milano è in una situazione disastrosa. Adesso tutto si può dire ma non che sia una situazione disastrosa. Non sia una situazione semplice, sicuramente anche perché poi si vedono le varie immagini che arrivano, ma sono cose diverse. Ad esempio stanotte è successo un fatto in zona Baggio, hanno fatto saltare il bancomat delle poste di Viagozzoli. Effettivamente sono scene da film di assalto alla diligenza, però insomma vedremo nel senso che succedeva anche prima e che adesso abbiamo le foto nell'istante perfetto in cui succede. Fra un po' avremo la GoPro montata sul casco del rapinatore che fa saltare il banco, ma ti facciamo la diretta social, ma è quello il concetto, capite? Cioè le cose sono sempre successe, solo che adesso le raccontiamo in maniera diversa e soprattutto c'è una esasperazione data dai toni della politica, dei cantanti, della cultura, dei giornali, dei giornalisti, quanta colpa ne abbiamo anche noi, che aiuta a fare esasperare i toni di tutti quanti e quindi appena vediamo qualcosa ci allarmiamo oppure ci arrabbiamo oppure ci indigniamo, tanto poi invece magari non ci indigniamo per altre cose che invece succedono dall'altra parte del mondo, ma insomma così appunto sono lontane e pensiamo sempre che siano lontani da noi, quando invece magari sono molto molto vicini a noi, ricordiamoci sempre che insomma quello che succede a qualcuno dall'altra parte del Mediterraneo potrebbe magari un giorno succedere anche a noi, insomma non sarebbe sicuramente una cosa piacevole. Pink, all out of fight, 8 e 51 minuti, siamo quasi alla fine, siamo proprio agli ultimi sgoccioli di trasmissione, allora ancora magari un po' di musica prima di salutarci, vi raccontavo prima appunto che a Baggio non ho fatto saltare il Bancomat, non è bella, facci bella da vedere, stanno girando sui social le foto, non è una bella immagine vedere la posta in quella parte lì sinistra un po' sventrata con i Bancomat tirati fuori, insomma non è una cosa carina, insomma cercatelo e tutto, però allora vogliamo ricollare Baggio invece per cose migliori, non solo perché fanno saltare un Bancomat, ma perché insomma sono quartieri interessanti che danno grande forza anche, mi vengo dire, però la parola giusta è forza, la grande forza alla scena musicale italiana e ovviamente quando si parla di Baggio, insomma ha portato anche sul palco di Sanremo l'ha detto, saluto, Baggio, quindi insomma non possiamo che non ascoltare Gali con una canzone del 2021 che fa Walla, Gali con Walla alle 8.52 minuti qui su Crystal Radio. 8.54 minuti, mercoledì 15 maggio, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Siete sempre di più, siete sempre di più all'ascolto di questa trasmissione, voi ascoltatrici e ascoltatori di Crystal Radio che decidete di iniziare la mattinata con Good Morning Milano, di avere la sveglia tutte le mattine tra le 7 e le 9 qui appunto con la nostra trasmissione e con tutto quello che cerchiamo di darvi come informazioni sulla città, insomma oggi abbiamo fatto anche un po' di meteo, tempo reale, situazione del traffico, situazione delle linee ATM, anzi adesso diamo un'occhiata magari prima di chiudere proprio all'ATM come stanno in questo momento. Si è leggermente allungata la lista delle linee tram con problemi per scambi allagati, al momento ci sono nuove linee tra cui il tram 2, il tram 3 e il tram 9, poi tram 1 e tram 12 anche loro hanno dei problemi per interventi tecnici sulle vetture, il tram 4 anche esso viene, si è un intervento tecnico su una vettura anche della linea 4 e poi via Vittorini, vi ricordo allagata, zona Ponte Lambro scusate, bus 45, 66 e 88 sbarrato. Ah è anche il tram 31, il tram 31 sostituito su tutta la linea dagli autobus perché c'è un intervento tecnico lungo la linea. Vi lascio alla voce di Ambrogio Curti con Senti Questa e invece noi ci ascoltiamo, ci rivediamo, ci risentiamo domani sempre qui in diretta dalle 7 alle 9 con una nuova puntata di Good Morning Milano. Buongiorno a tutti milanesi e sveglia, ciao!